Molte canzoni nascono da storie d'amore, questa parla solo delle mie due gambe. La sinistra con la destra, si è ben chiaro, non parlo di politica. Potevo essere giginiva, ma la vita con me è stata cattiva, regalandomi due gambe insufficienti per camminare. Ma la vita, si sa, è strana e bisogna accontentarsi sempre. Potevo giocare con Anastasia e Pietro, ma la vita mi è condannato. A non scendere mai in un campo di serie A, per giocare con i miei due idoli. Gigi Riva tirava sempre di sinistra, mentre Anastasia era ambidestro. E' bello vedere, giocare, tanti giovani sui prati e divertirsi. Nella vita non puoi avere tutto, ma io credo ancora di sognare, di giocare. Con questi due grandi campioni, lo so, è solo un sogno che non si realizza mai. Ma è bello pensare di farlo. E molti mi dicono che la vita bisogna affrontarla, e bisogna andare sempre avanti. E una parola, con le mie gambe non vado avanti. Anzi, rimango fermo sul marciapiede. E sto a guardare le auto che mi passano davanti. E ogni tanto voglio pensare di essere Gigi Riva e Pietro Anastasi. Due grandi campioni che hanno accompagnato la mia adolescenza. In certi momenti non belli della mia vita. Ma le ringrazio mi hanno dato uno scopo di questa vita nella mia vita. Grazie. 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 Grazie.